Nuova allerta meteo diramata dal centro funzionale della regione toscana anche per il territorio della provincia di Arezzo. L'avviso di criticità è valido fino alla mezzanotte di martedì per rischio idrogeologico-idraulico elevato per le zone della Val di Chiane e del Valdarno e moderato per il Casentino e la Val Tiberina. Il centro situazioni del servizio protezione civile della provincia di Arezzo è in sinergia con il sistema provinciale integrato, i comuni e i centri intercomunali è allertato e pronto con il personale e i mezzi per il monitoraggio dell'evento. Si segnalano già alcune criticità sulla viabilità provinciale con strade chiuse a causa delle frane dovute alle piogge che ormai da giorni insistono sul territorio. Riguardano la provinciale di Camaldoli chiusa al chilometro 18, la provinciale 74 della Scarpaccia chiusa anch'essa e la provinciale 60 di Chitignano chiusa al chilometro 8. Il personale del servizio viabilità della provincia è al lavoro per ripristinare la viabilità e garantire la percorribilità della viabilità alternativa il prima possibile. Uno dei comuni più preoccupati è quello di Monte San Savino, memore dei gravi danni subiti nello scorso autunno. Per questo ha diramato una nota appellandosi alla popolazione e raccomandando ai cittadini la massima prudenza se costretti a spostarsi durante le precipitazioni.